Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing Happy Home Designer Oggi ho preso Serena che vorrebbe il suo orto Perché vorrebbe l'orto appunto Ci sa come sarà una volta arrivato bene Wow Vediamo cosa ci ha portato Serena Un orto tutto mio Ok Il pozzo Bene bene Ho scelto infatti questo spazio ampio Se vuole l'orto non si sa mai Quindi il pozzo lo metto qua La carriola la metto qua Vediamo un po' cosa ha portato Serena Ah ok ha portato il pero perfetto Il pero perfetto Poi ha portato l'arancio perfetto Mappete Faccio un bosco qua più che un altro Facciamo così faccio tutta Il filare qua degli alberi da frutto Il pesco perfetto Il pesco perfetto Il ciliegio perfetto Mamma mia E vado anche di qua E inserisco anche di qua E mi manca Il meno perfetto Oh perfetto Tutto perfetto qua Ok Wow filare Di tutti gli alberi perfetti Il pozzo lo metto qua Questo punto Vediamo Carriola Inserisco qui Vediamo se c'è qualche Novità Che non avevo visto Qualche tappito novità No Perfetto Ok Di nuovo Allora Ci mettiamo il campo di grano Aiuto E' proprio sui piedi Uno Due Piccolo campetto di grano Ok Campetto Questo cos'è? Fascina Già Un po' di grano Raccolto Ok Questi Supporto fascine E lo vado a mettere qua Anzi Lo metto qua Bene Allora Inserisco di qua Qui c'è Spaventapasseri Perfetto Proprio in mezzo al campo Adesso cos'è Un erroratore Ah ci sono due tipi di spaventapasseri Io ce le metto tutte e due Aiuto Ok Perfettissimo Qui cos'è? La panchina tronco Metto qua vicino al pozzo Bene Ma perché mi ha messo Ma cosa Ah non avevo mica visto Che la cariola L'avevo messa lì Ecco Bene Meno male Mi sono un attimino svegliata E avevo raccolta Della cariola Che l'avevo portata A giro No Qui Di nuovo qua I pikmin La vasca di pikmin Ne metto qui Anzi Sì sì E poi faccio Attenzione Adesso Ci metto Allora Questo 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 C'è il mollo di bambino Qua Lo lascio qua sotto l'albero Ci volevo mettere Qualche fiorellino Perché Sono carini Anche i fiorellini Un bel Novia la violetta E poi No Di nuovo fiori Grazie Un mughetto Ottimo Basta Slanciando Perfetto Un tappetino Davanti alla porta Ci starebbe bene Comunque Qualcosa S Merno bianco Perfettissimo Ok Entriamo Aspetta la casa Controlliamo la casa Conteggio piccolo Non ci sta Ok Conteggio piccolo Casa zen Vediamo Sì Conteggio piccolo Va bene La scelta fatta Il tetto Vai Paglia turchese Vai Entriamo Entriamo in casa E Arriviamo un po' La casa Un vaso per piante Bene Allora Muro legno Sto cercando Il muro Country O rustico O rustico Country Questo Muro albergo Questo Sala d'attesa Ok Facciamo così Ci metto Muro cielo Risaia Poi Cavimento Futuro Ah Questo Me l'aveva portato Il pavimento Orto Me l'aveva portato Bene Ok Letto Non l'avevo mica portato No Intanto metto al muro Questo E questo Benissimo Andiamo A fare O Il letto rustico O il country Se lo trovo Se lo trovo Il country Questo autunno Antico Vimini Verde Blu Legno Sì Anche legno Potrei fare Legno Deciso Muro legno Continuiamo Siamo ai tavolini Tavolo legno Country Faccio il No Country Non ho sentito Nessuna esclamazione Vediamo Legno No Sentiamo un po' Se può piacere Allora Quello Country Rustico Oh rustico Andiamo sul rustico Allora Cambiamo Ha provato il rustico Poi Seggio le rustiche Un E due Ok Continuiamo con il rustico Allora Al divano La poltrona Aspetta un attimo Lascio un attimo qui E il divano Bene Perché faccio questa cosa qui Perché adesso Caminetto Cerchiamolo Cerchiamolo La poltrona la metto di qua Anzi La metto qui Ci passo E cerco No intanto questo Poi Cercavo Questa Bene All'armadio Rustico Ok Come rustico Qua Però Però mi serviva No Torniamo indietro Mi serviva Qui La libreria Vorrei La libreria Libreria rustica Perfetto E la libreria Me la metto Vicino Alla poltrona Così No Così Ok Un bel tappeto Di cuore Non gli è piaciuto molto Qui Aspetta Non ho visto il cesto di bambù Da mettere qua sopra E poi anche A questo punto Il cesto di verdure Da mettere sul tavolo Perfetto Continuiamo Questo ci ho messo tutto Ah no Il cappello E poi Il La foto di Serena Vai Così Poi Continuiamo Andare qua Nell'elenco Globale La libreria Me la messa L'armadio Ce l'ho messo L'esergio Ce l'ho messo Andiamo qua Nella zona Cucina La bandina Lampade Oh Una bella zona Lampade Un bell'orologio rustico Così è qui E allora Qua L'orologio Lo inserete Ah ecco dov'è il caminetto E qua giù in fondo Via Ora Vi ricordo Dov'è Speriamo Giornali Trofei Mettiamoci Un cestino Per i rifiuti Qui Ecco Può fare La raccorta Diferenziata Insomma Diferenziata Poco però È un solo cestino La lampada Le lampade Ce l'ho messe Le lampade Ce l'ho messe Eh no La lampadario Non può mancare La lampada Ci metto poi Il pensile Antico Qua sopra Lo che bisogna non ce la metto Perché il caminetto Me la ripara Ah però ci posso mettere Un bello stereo eh Fermi tutti Se no Smorto così No Ci metto Anzi no Ci metto il computer Che lo metto qua No Qua Di fronte alla finestra Sì Lo posso mettere anche Qui Effettivamente Qui ci sta Sì E Mi si è abboiato Lo schermo Ok Una seggiolina Voglio cambiare Tipo di seggiolina Però Ci vorrei mettere Seggia Lo scabellino Questo Sgabello Legno Ecco Ottimo Aspetta che Sposto questo Più Come Bene Sì Perfetto Qualche quadro Non ci vuoi mettere Qualche quadro Ma certo Questo Questo bel quadro Qua Invernale E lo metto Qua Ah ho detto Il tappeto Sì E poi L'avevo tolto Vai Mattoni Vai il tappeto Mattoni No Ci sta Per niente Ancora Sì Vai Tappeto Rosso Qui davanti Alla porta Se no Potrei mettere Anche qui Sì Sì Qui mi piace Poi Qui la Seggiolina Continuiamo Il lampadario E torniamo a noi Il lampadario Basso Basso Sospeso Allora però ci metto Questa pianta Basso Sospeso Che mi piace un sacco Metto qua E Ritorniamo al lampadario Un sacco di roba Lampadario Lampada smaltata Sì Blu Sopra qua C'ha altri oggettini Da mettere Credo Sì Uscita di sicurezza Mi sembra Classico Condizionatore Che piace sempre a tutti Insomma Il riscaldamento Fa sempre comodo Allora Io ci metterei Anche Sì Secondo me Questa Una Zucchina Qui Non gli è piaciuta Boh La zucchina Dell'orto E Eh Questo ci potrebbe Mertere anche Sì Un gatto Porta fortuna E via Ok Direi che L'arredamento È fatto Vediamo un po' Serena Se ti piace Questa casa Un po' A orto Fatto E vediamo un po' Sì sì Ho fatto Vai Vai Serena Vai Un orto Tutto tuo Dai Serena Facci vedere Forza Bella visita Panoramica Vai Dici un po' Facci sapere Le tue Conclusioni Ah È eccezionale Olè Olè È piaciuto Sono sempre buoni Comunque c'è da dire Merci 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 Ciao Serena Ci hai fatto proprio Piacere Ci ha regalato Il cuore In pranto Come Emoticon S Bene Adesso È giunto il momento Come sapete Dei saluti Delle scalite Canoniche Frasi Quindi Io Vi ringrazio Per aver visto Il video Fino a qui Mi raccomando Mettete un mi piace Se vi è piaciuto Il video Commentate 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 E Se non vi siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi E uno Ciao Ciao a tutti Al prossimo video